Per fare questo esercizio ci si deve prima sedere sui talloni. Si porta un gomito all'interno del ginocchio dello stesso lato, quindi in questo caso gomito sinistro all'interno del ginocchio sinistro. La mano sta bella appoggiata a terra, la mano opposta invece sta dietro la testa. Ora, da questa posizione dobbiamo portare il gomito destro a toccare il gomito sinistro. Una volta toccato il gomito, il gomito destro si apre il più possibile all'esterno puntando verso il soffitto. Lo sguardo segue il gomito. Più che possiamo e ritorno. Apro, più che posso, sempre guardo il gomito con lo sguardo e ritorno. Apro e torno. Ok, mi raccomando, il movimento non è questo, ma la testa e il gomito sono tutto un blocco, quindi qui tocco. Poi una volta aperto il gomito, spingo il più possibile verso il soffitto, con tutto il corpo. Un movimento che deve partire dal petto. Ora lo rivediamo dall'altro lato, quindi gomito destro all'interno del ginocchio destro, mano sinistra dietro la testa. Adesso il gomito sinistro va a toccare il gomito destro e anche questo si apre il più possibile all'esterno, verso il soffitto. e torno e torno e torno e torno e torno